Ben ritrovati ragazzi sul canale di Galloz, un nuovo episodio della nostra pratica col Porto Pollo in Europa Universalis 4 Nello scorso episodio abbiamo attivato Corton Country e finisce nel 45 Fra poco annettiamo pure la Sicilia, quindi andremo a finalmente rimuovere questo privilegio qui A quel punto avremo l'assolutismo abbastanza alto per finire Corton Country con il miglior outcome possibile Abbiamo iniziato a trasportare qui a Lisbona un po' di meraviglie e adesso sappiamo questo Quindi possiamo aumentare il numero di culture promosse Penso che metteremo dentro gli inglesi e magari tutte le italiane, perché no? Ma sì Gli advice poi costano poco, quindi niente male È bella sta meccanica, che quello che si può rubare si ruba e poi costa poco Adesso ci stiamo portando a casa pure questi, voglio vedere se scompaiono, sono curioso Ottobre, vediamo se sono scompargiuti, perché si vedono, quindi magari scompaiono, chi lo sa Allora Vari problemi di ribelli, ci sono praticamente tutte le truppe rimaste degli ottomani Tu stai andando lì Bellissimo Meraviglioso tutto quanto Questo è tutto quanto occupato Gli ottomani ho guardato che non mi vogliono dare questi perché non sono occupati È una cosa che potrei risolvere abbastanza rapidamente in realtà Però Se arriviamo a Gerusalemme C'è la città di Gerusalemme Che mi dà Missionary Strength Papali Influence Che è una cosa che preferirei avere io Quindi Puntiamo dritti su Gerusalemme Allora, la povera projection purtroppo è bassa In questa fase non mi posso permettere di fare molto altro Perché adesso devo fare L'annessione della Sicilia Poi dobbiamo fare la Ok Finire questi core Fare pace con gli ottomani E questa pace qua mi prendo tutto quanto per me Ed è un altro 91% di overestensione Durante Questa C'è finita la pace con gli ottomani Facciamo subito la guerra con La L'Aragona E La full annettiamo Penso che romperò anche qualche alleanza Per fare in modo che posso conquistare Napoli Abbastanza facilmente Potrei dichiarare guerra Genova Che gli garantita La Francia garantisce un bel po' di robe Allora Devo trovare qualcuno A cui dichiarare guerra Che non sia alleato Con Toscana e Napoli Magari proprio Aragona Magari proprio Aragona Potrebbe essere il momento Per iniziare a fare fuori Quelli che in Italia sono sotto Alleanza con la Con loro Gli ottomani non hanno rispettato la loro alleanza con Sibir Ok Questa potrebbe dare modo A Moscovia di Diventare Russia No perché non ha Mosca E non ce l'avrà mai Torno a casa dalla pranza Perfetto Mima Non è vero Sì E qui Tu vai là Questi qua Erano 40.000 Ne sono morti 13.000 Per andare Dalla Giorgio del Sud Da là Ok Ufficialmente Perdiamo soldi Perché Mi sono spinto Forse un po' troppo Oltre con le truppe Che sto reclutando Vediamo di finire Quarton Country Il prima possibile Va Questa? No C'è qualcosa Che non Ah È una colonia Scozzese Ok Quindi Ho una colonia In più Abbastanza importante In realtà Non pago così tanto Forse limite Solo 54 Perdi uno di stabilità O Ducati Ducati Anzi La stabilità Adesso La portiamo su Mi sa che Passeremo pure Quello Questo è un 10% Di ore Estensione Vediamo Arrivare Almeno Fino qui Poi magari Facciamo una pace Leggermente Diversa Dovreste Arrivare Senza morire A destinazione Ok Chi è che rompe? Mary Joyce Ma che tu vuoi? Tra l'altro Sei una Crown Colonies Supportiamo I supportanti 17.000 Zanzibar Non sono pochi E sono anche lontani Purtroppo Quindi riusciranno Ad assediare Ok Sì Non sto a fare Assedi di lì Questa cosa potrebbe Diventare Bandiera nera Però Sì 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 Faccio comunque pace Prima con loro Quindi tanto vale Portarselo a casa Vai qua Pong Allora Con voi qua È il 90% Sarei overesteso Di non tantissimo Non sarei overesteso Di tantissimo Però Io vorrei Stringere un po' I denti E finire di fare loro Maggio del 41 Tanti soldi Arrivano Dalle colonie Dai Ce la facciamo Ce la facciamo Questa di quanto Sta salendo È così Al mese È tanto Particolaristi A Manbubu Vorrebbe essere Tipo qui Perché non mi dici Dov'è Mpanb Beh Vabbè Secondo me È un nome Da Congo Non è vero Sì Invece Ok Vai Ma potremmo anche fare questo Cosa abbiamo L'edatricion M'è un povero di coprire No Di questi non mi interessa niente Perché abbiamo Troppi punti militari Quindi Mi sa che ho spinto Un po' troppo Sull'acceleratore Per le truppe Extra La francese Ha rubato Il rovo Lì Ho messo Chilva Questo è un po' Pericoloso Stai lontano Oh Possiamo Possiamo reclamare Un'egemonia Perfetto Perché ho abbastanza navi Lo faccio Perché tanto non penso Che qualcuno Me lo possa mai rubare Questo qua Vuol dire che Al massimo Abbiamo Danno Dall'artigliere Da dietro Che è fortissimo Nel tempo Mettiamo Il sailors Del 200% Il liberty desire Dei subjects Si abbassa Perfetto Aumenta il potere Delle navi Naval engagement E national Monthly war exhaustion Via Proclamando un'egemonia Ci pigliamo Dei benefici Ah però Ok Questa cosa Farà incazzare Sicuramente La gente No Io voglio fare Prima facciamo Almeno una guerra In cui Mi chiamo Detro ancora La Francia Non manca Tanto Agosto Del 41 Agosto Il 41 Ha finito La tregua Con loro Arrivano I soldi Dal resto Del mondo Qua Colonizziamo Chi è L'Olanda O Ma farebbero già La guerra Ora Mentre Sono Sarebbe Un modo Per Io ho bisogno Di stare In pace Sto pensato Su bisogno Di stare In pace Penso Di no 5 Di legittimità Perdiamo Soldi Joao Terzo Fino Alla Sua Morte Avrà Consorte Joao Terzo Ha Una Vita Cortissima Cioè Appena Fina Ecco Perché Ho bisogno Di stare In pace Ora Mi ricordo Perché Dobbiamo ucciderci Tentare il suicidio Ci siamo Ragazzi La Sicilia Tra un po' Scompare E noi abbiamo Due Meraviglie Stripoli Vabbè Vaci 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 tu Anche se stai Drillando Manca poco Manca poco Manca poco Posso fare Già L'attacca militare Incredibile Allora Con questo Manca effettivamente Poco Qua siamo Al 90% Penso che possiamo Far pace Aspettiamo che questo Risalga Al 60% Penso in pace E per fare ciò Potrei fare così Sardinian Mi sa che sono Tanti A 27 In realtà Ok 91 Perfetto 92 punti Di Lì Quindi Bene Questa Adesso Forse Un po' Più piano No Ma sono Un ciula Totale Mi sono Mi sono Dimenticato Che avrei Speso Punti Io ho bisogno Di annettere Questo Allora Allora Ho sbagliato Paga Ti do Salerno E questo Rimanda indietro Loro Ma io non sono Più Veresteso Amazon Lily Guarda Facciamo una bella Roba Penso che Tutti Si è espansa Praticamente A sufficienza Quindi Diventi Una crown colony E non rompi Le balle Impel down Altissimo Caspita Facciamo un po' L'idea Impel down Ok Adesso ne abbiamo Drum Punk hazard Anche te Non devi più Colonizzare Di fatto Quindi anche te Diventi una crown colony Rimangono Impel down E drum Sono tutte crown colony Tranne Tranne Sabaudi Che ci dà Invece Altro Allora Amazon Lily Che cazzo Sei Amazon Lily Mi dai Non hai punti Amministrativi Ok Invece Punk hazard Forse devo Verceli io Che ha poco Poco di senso In più Ok Rivolte a Malta Vuoi 6.000 soldati Ma prendili pure Tu vuoi passare Passa Non è un problema Non lo è Conquistata provincia Gli ottomani Più 50 Ok Allora Prendiamo le nostre Attività economiche Perché ci servono Rotec trade Questa è Com Baggi La chiamo così Perché si capisce meglio Cormandel Non me lo ricorderò mai Vai Poi Voi C'è una nave Che sta arrivando Evidentemente Però andate a fare Protect trade A Gujarat Che siete proprio voi In realtà Quindi perfetto Te Invece Fai Protect trade A Zanzibar Visto che sei tu Ho messo a 50 Benissimo Via Voi qui Va bassa Avrei dovuto aspettare qualche mese Che ciula che sono Adesso abbiamo Dieci mesi In cui non annettiamo niente E poi c'è Problemi di altro tipo Vabbè Allora Abdica Stability drop Torna su Questa 55 Potenzia Potenzia Perfetto Tanto abbiamo punti extra E va bene Colonizza lì Regal merge con te Soldi da te Mamma mia Che matrimonio Del cavolo Forse era meglio Sposarsi prima Con la Francia Non lo so Non è che Cambio molto Mi serve At the last one Di questo Ok Almeno qua Siamo Una buona generazione 16 Il massimo 18 Quindi Niente male Che guadagniamo soldi Perché avendo messo Quelle nazioni lì Crownland Adesso abbiamo Quasi più belle Allora Andiamo Da Punk hazard E chiediamo Di darci più uomini Più force limit Poi tu produci oro Pare proprio di no Anche se questo diventerà tuo Se invece un po' Lo produci Ma lì chi se ne frega Ma questa zona qua Non è ancora Colonizzata Da nessuno Vabbè Chi ci arriva Ci arriva Ma Va bene Vuoi pure i soldi Poi Water 7 Qua non solo Abbiamo allungato i tempi Abbiamo anche fatto cose Vabbè 27 Torniamo ancora Da qua Parliamo con Amazon Lili E diciamo che ci deve dare Anche lui Questo Ok Adesso il mio force limit È salito a 507 Quindi quello L'abbiamo sistemato E qua siamo a 504 Dovono salire ancora In realtà È che avendo Rimesso le navi qua Ci pigliamo Un sacco di soldi Questi sono pirati qua Non dovisco Perché subiscono danni No Non penso che serva Voi siete Una commerciale Mediterranea Siete più piccolini 80% Chi è che mi fotte le cose Songhai Ma Songhai Dov'è che fa collect Ma Sono un guy che fa collect A Siviglia A casissimo Davvero a caso Ok Amazon Lili Dammi più soldi Aumento del 20% I soldi Che mi va Dalla treasure fleet Questo qua Missionary strength E Integration Direi di no Perché abbassargli La sua governance Capacity Che senso avrebbe Ok Basta Adesso facciamo i cor Fai i cor Di tutto quello che vuoi Vuoi sposarti Sicilia Ma sì Ma sposiamoci Sposiamoci Perché non me l'ha aumentata Ma Ah Religious unity Il problema Eh Vedete Religious unity Perché Sta parte qua Non l'ho messa Non l'ho messa Subito A fare La trick companies Tra l'altro Dovevo prendere Anche questa parte Mi sono dimenticato Ah qua posso Convertire Dice in 40 mesi Allora penso che qualcosa Lo metteremo Nelle trick companies A sto punto Quello no Allora Trick companies Dai tutto quello che qui Va nella trick companies Quindi Qua sono un po' indeciso Sulla zona di Timbuktu In realtà Cosa si produce E che cultura c'è Soprattutto Tuareg Non è un gruppo piccolo Tuareg No ma facciamo anche qua Tutto trade Dai Cioè c'è un po' di dev Ma pazienza Questo però Va a aumentare Sicuramente Questo numero Andiamo un po' 101 Perfetto E qua 31 Dai va bene Ci sta Ci sta C'è solo questo Che è fuori Dalle trick companies Ma è cattolico Quindi Adesso lo possiamo Mettere sicuramente Dentro E da questa parte Tutto dentro Ok Qua è quasi Tutto fuori Va bene così Zone mie che posso Convertire Ce n'è un pochino Tipo Aru Questa roba qua Palu Converti Palu Sicuramente Metterò Queste zone qua Nelle trick companies Al 100% Devo capire un attimo Il discorso qua Dell'Egitto Perché anche qua La cultura Non è piccola Quella egiziana Quindi si può fare qualcosa Di interessante Penso che l'abbia Un'espanza Di 8 mai Onestamente E qui Dev ce n'è Potremmo fare Che questo Non è stato Vero Però Visto che non ho Problemi Di Di questo Onestamente Lo avvenisci Fra due mesi Torniamo ad annettere Fra due mesi Torniamo ad annettere Non dopo Non posso Non posso Full annettere Finché Lui è occupato Però Perché Sei Tutti Conto di me Dai Cosa sta succedendo Perché Stai andando Tu Che Palle Trasporti Automatici Che si Mischiano Con le Altre Navi Dai E via 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 Detto Allora Questo lo mandiamo ai Caraibi Queste qui Le mandiamo qua Che sto accumulando Un po' di trasporti Per fare Cose In futuro Ok Devo iniziare a fare Spy Network Ho un mercante In più Facciamo un po' di spy network Sugli inglesi Ah lo sto già facendo Siamo al 60% Allora Qui prendiamo York Sudì ce l'abbiamo già Poi da qua Possiamo prendere Ma questo va bene Ok il mercante Praticamente Ne abbiamo uno In ogni posto In India 15% Mandiamo qui Qui Manca qua Eh no Adesso lo mandiamo Perché Vaianagar Ne ha messo uno E a noi E a noi conviene Qui Perché abbiamo più potere Che qua Ok Qui in Africa C'è Un mercante Ovunque Almeno in tutta Quella zona Di qui Ok Ripaga Il debito Ce n'è ancora uno Siamo tornati A guadagnare 80 Qua devo mettere Questo Entro il 45 Comunque Cioè non è così Scontata la cosa Per vaio 43 Adesso cerchiamo Di non fare Altre cagate 5 Oh 13 13 Joao 13 13 Che può avere Un nome diverso Ancora Ma non importa Un Joao Che non sembra Un matto Vabbè Aumentiamo il prezzo Della cosa Ma Non importa Proveni D'Alessandria Vaci tu Guardate Gli ottomani Come li abbiamo Distrutti Adesso esplodono So Cosa fate Guerra Gli ottomani Che che dichiara Ungarian conquest Cioè se la sentono Così tanto Ma sì Andate Andate Riproducetevi Via Vai lì Dov'è qui Perfetto Ma tu sei trasporti India E sei finito qua Beh Perché commerciale Caraibi Sta proteggendo Il trade A Siviglia Protect Trade Caraibi Grazie Ma questi tre A sto punto Facciamo Protect Trade Ivo Ricosta Finito la trega Con gli inglesi Doviamo fare guerra Agli inglesi Ad Aragona Ha un sacco di gente Dai Voglio annettere Qua stiamo andando Abbastanza rapidi Gennaio Dell'anno prossimo Fatto Local arrest Per popular influence Ma certo Certo caro papuzzo Il portogallo Prende prodotti Slit Production efficiency Fino a 52 O Uno di inflazione Ok Napoli Ci spia Ah no Noi ce l'abbiamo Noi ce l'abbiamo Su Napoli Ottimo Perfetto Però è quello che volevamo Quindi abbiamo un po' di claim Qui in Italia Qui in Italia Di lì Su di loro Tutto molto bello Chi è che rompe le balle Dress rosa Supporto a loyalist La cosa che appena Annettiamo Separatismo Meno 5 anni È un ottimo tratto Ragazzi Davvero ottimo Appena annettiamo La La cosa Va via questo La Sicilia Va via questo Che da Liberty Desire E Subjects Più 15 Cioè È un Botto Infatti Annett Cioè Espandersi Ma Qua ragazzi Gli ottomani Li abbiamo davvero distrutti Cioè Hanno già Hanno già occupato Costantinopoli Ah volevo vedere una roba Adesso qua Dovremmo Avere pure Le statue Maori Ok Questo qua Diciamo che serve Solo per collezionismo Perché dovrebbe Eserci la coltura Polinesiana Lì E non penso Serva Ma voglio vedere se restate Sono ancora qua Sono ancora qua Nonostante gliel'abbiamo tolte Tolte Rubate Siamo dei ladri Di monumenti È quello che hanno fatto tutti Tipo A Berlino Ci sono i monumenti Della Mesopotamia Quindi figuratevi voi Che cosa si trova in giro Oggi voglio finire L'episodio con l'annessione Della Sicilia Però Questo è importante E possiamo anche Spendere soldi Lì Ok Colonia Quanto ne sto facendo Maledetti Maledetti Si riesce a cliccare Sto isola Grazie Mi serve Fare il claim Dappertutto Vai Mazzolili Cerca di farlo fuori Ora è circondato Non dovrebbe più Muoversi in giro No Non ci posso credere Questa è un'ottima notizia Questa è un'ottima notizia Il problema è qua Che non posso fargli fare lui Una guerra contro Una nazione europea Sennò sarebbe Sarebbe fatta Make all core Dai non ne mancano tanti Attenzione Prossimo mese Privilegio rimosso Questo è annesso Adesso abbiamo pure World score cost Verso southern religion Non abbiamo più Vassalli Produciamo 16 Quindi tutto bello Il disastro Deve essere Almeno a 10 anni Nel prossimo episodio Portiamo a termine Adesso non c'è più Questo privilegio Potremmo anche pensare Di iniziare a darne altri Questo qua può arrivare Però a 70 Adesso Entro due anni Devo importare L'assolutismo A 65 Ma mi sale da solo A 66 Senza che io debba Effettivamente Fare qualcosa Diciamo che possiamo Essere sicuri E portarlo noi Un attimino Più in su Evitando magari Anche rivolte In giro per il mondo No 63 Ci arriva sicuramente E questo Avrebbe aver abbassato Di tanto Liberty Desire Di loro Alcuni sono ancora Comunque alti Ma Tutto sommato Ci sta Bene Dai Direi che possiamo Salutarci qua Nel prossimo episodio Io direi Di fare Una guerra Una guerra Una guerra D'Aragona E la Francia Entra Mentre siamo in guerra Con Aragona Possiamo fare Una guerra Contro Napoli E tu invece Sei garantito Dall'Austria Potremmo fare Una guerra Contro Napoli E Genova Cubeligerante Ma si Con la Francia Che nel frattempo Ci fa lei La guerra Contro la Toscana Noi purtroppo Contro Napoli Dovremmo andare A menare Venezia Che è Bastanza ostica Come cosa E c'è ovviamente La solita Albania Che si mette di mezzo Quindi queste guerre Qui Poi una vera Guerra Contro l'Olanda Secondo me Si può tranquillamente fare Un'altra guerra Contro gli inglesi Quindi in Europa Ne abbiamo da fare Poi la prossima guerra Con gli ottomani L'intenzione è quella Di connettermi Con i russi Quindi Questiamo qualcosa qui E iniziamo la conquista Di questa parte Cioè Pian pianino Voglio fare Il confine di qui E Europeo insomma Ci spingiamo in qua Ci spingiamo in qua Arriviamo a connetterci Con la Svezia E facciamo fuori Tutta la parte Della Moscovia Dopodiché Pian pianino Attaccheremo L'impero da tutte le parti Ma c'è tempo ancora Dobbiamo iniziare a fare le guerre Contro Vajanegar Perché voglio comunque Completare il nostro Albero di missioni Quindi fare questa Che ci dà Power Projection Permanente Più 25 Che non è affatto male E poi c'è tutta questa parte Qua da sistemare Quindi voglio Conquistare Il Congo O comunque Questa parte del Congo E prenderemo qualcosa Anche di lì In Madagascar Il resto di Zanzibar Poi Ormuz Che per una missione Quindi Questo pezzo Di ottomani Dell'Oman In India Sicuramente Quello che ci serve Per finire le missioni Quindi il bordo Più che altro Non penso Andremo dentro Non è davvero necessario Qua vorrei conquistare tutto Dobbiamo eliminare L'Olanda E le Fiandre Facciamo un ultimo check Alla fine di questo episodio Che viene un pochino Più lungo Ma Va bene Allora L'Olanda Possiede Questi territori qua In giro per il mondo Questo E questo Ok Quindi all'Oceano Indiano Niente Gli inglesi Hanno deciso Che basta Loro volevano Qualizzare solo Nord America Li abbiamo menati In sufficienza Forse sono ancora Indebitati Non lo so Sì No Sì Sono ancora Indebitati Ma È strano Comunque Non stanno Più facendo niente La Svezia C'ha Qui Lei potrebbe Da qua andare Da queste parti Ma non lo sta facendo L'altro colonizzatore Potrebbe essere La Francia Che ha le idee Per farlo A exploration Ma Non dovrebbe esserci E poi ci sono Le fiandre Che hanno una colonia In nord Qui Sud America E basta Solo quella Solo esclusivamente Quella Quella Tengo crown colony Loro Così hanno Un piccolo Vantaggio Qualora si stanno Connettendo Da questa parte Ma la basta Non riuscirà mai A fare il core Come fa la Svezia Di avere Un claim Su questo posto Caso Tutto a caso Uh Sarebbe bello Se qua Perdesse Loro Ma probabilmente Little Garden Riuscirà a conquistare Questo pezzo Sapete che qua Lascio che colonizzino Loro Tanto Se non riescono A fare il core Lo faranno Appena posso Durante la prossima era L'Albania Oppure l'engua Era quegli ottomani Potrebbe espandersi L'Albania La ragazza Incredibile Comunque non pensavo Di distruggerli Così tanto Ma evidentemente Sì Gli ottomani Sono stati Completamente devastati In queste guerre Dai ci vediamo Nel prossimo episodio In cui finisce Quarton Country E poi facciamo Le guerre in Europa Che vi ho detto Organizziamo Poi le varie guerre Qui nell'Oceano Indiano Terremo Diciamo Due scenari di guerra Oceano Indiano E Europa Perché nelle Americhe Farei fare Alle colonie Anzi Quasi quasi Io proverei pure A dire Non faccio niente Se il Brasile vuole Attacca lei Pure Punk Hazard Perché tanta la possibilità Di farlo Ce l'hanno Tutte e due Ci vediamo Nel prossimo episodio Ragazzi Prima di tutto Sotto nei commenti Vi ricordo Like Di iscrivervi Con la campanella E che gli abbonati Possono vedere Gli episodi In anteprima GG a tutti Sotto nei commenti